Sì, perché non ti piace lo sedano, Henry? No. No? Perché non ti piace lo sedano con lo sedano? E' una boccia qui che ci fa il profumo con lo sedano. Lo profumo? Ma perché non ti piace però? Posso assaggiare? Assaggia, assaggia. Ma se mangia, sicuro? Come non se mangia? Non ti fa venire malattie? Madonna, lo profumo, Henry? Scambi, puzza dei piedi. La puzza dei piedi, Henry. A te puzza, non ti piace, Henry? Lavate e asciugate le melanzane. E rende piaciuto, non lo sa. No, no. Cazzo. Ok. Vado? Vai, vai. Prepariamo tutti gli ingredienti. Allora, è. Non ti piace? Non vuole lo scambi, ma che cazzo è? Oh.